ciao io mi chiamo Lorenzo Pizzani e volevo fare un saluto a tutti i miei amici di facebook e e alla mia carissima fidanzata Angela Longo e volevo fare un saluto all'associazione Pastor Bonus di Ottona e volevo fare un saluto a tutti i miei amici della parrocchia di San Gabriele della dolorata di Ottona e un saluto e un auguro di buone feste a tutti i miei amici e alla mia fidanzata Angela Longo oggi ho creato un disegno un disegno bellissimo dedicato alla mia fidanzata Angela Longo che si chiama Angela Angela 10 con questo disegno volevo rappresentare ecco tutto l'amore e la gentilezza che la mia carissima Angela mi da ogni giorno e tutto tutto l'amore che ho per lei e tutto l'amore che lei mi da ogni volta ecco che cresco con lei e che sto con lei e le ho dedicato un bellissimo disegno dedicato a lei che si chiama Angela 10 e che e che caricherò lo caricherò in questo video un saluto a tutti a tutti gli amici di Facebook a tutti gli amici della parrocchia di San Gabriele della dolorata di Ottona dove tutti i giovani dove vado abbastanza dove ho tutti gli amici miei, insomma, un saluto a tutti gli amici appunto dell'associazione Pastor Bonus, un saluto alla mia fidanzata Angela Longo e un saluto a tutti. Buone feste a tutti, buone feste a tutti, buon Natale a tutti, a tutti gli amici dell'associazione Pastor Bonus, buon Natale a tutti e a tutti gli amici della parrocchia del cuore emacolato di Madre di Silvi, di Silvi, di Occi e 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 di Amor. Buon Natale a tutti. Buon Natale Angela, mi raccomando, pregate tanto e un saluto particolare a te Angela. Grazie dei vegani che mi hai fatto ieri e grazie della serata che ho passato con te. un saluto particolare a Tommaso Rapino dell'associazione Pastor Bonus della diocesi di Lanciano Arturna e a tutti i ragazzi, gli operatori. della diocesi di Lanciano Arturna e un augurio di buone feste a tutti. Grazie. 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 Grazie.